In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli iscrivi venuti da Gerusalemme, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie, di oggetti di rame e di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono, perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure. Ed egli rispose loro, bene, ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro, siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse, onora tuo padre e tua madre. E chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite, se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio. Non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte.